Al prossimo episodio ma che c'è un problema non c'è un problema non c'è un problema non non c'è un po' caro non c'è un po' caro ma che è così Grazie pensi che si da un volco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.